Stiamo un attimino soffrendo, certo Venezia è Venezia, però rispetto all'anno precedente comunque un 15% in meno si sente. Chi quotidianamente attraversa Venezia tentando di farsi largo nella marea di visitatori che si riversano per Calli e Campielli probabilmente non se ne è accorto, ma i turisti quest'estate sono in calo. Il fatto che la Biennale d'Architettura attiri tradizionalmente meno rispetto a quella d'arte contemporanea non è sufficiente a motivare un calo così sostenuto. Le spiegazioni vanno cercate altrove, da città internazionale e dal turismo internazionale Venezia beneficia o patisce ciò che accade fuori dai nostri confini e il clima di incertezza creato dalla minaccia terroristica ha avuto l'effetto di far arrivare in Europa meno statunitensi. 4 e 5 stelle comunque, 5 stelle in particolare, lavorano molto con gli americani per cui ovviamente se la loro mancanza o la loro minora affluenza si sente molto su questo tipo di struttura. In generale sì, diciamo che un po' in generale c'è stata una riduzione, però in particolare degli americani. Chi manca all'appello quest'anno non è il turista mordi e fuggi che come chiunque può vedere continua ad affollare la città. A mancare, se si dovesse tracciare un identikit, è un turista straniero di categoria alta, benestante o molto benestante. Gli americani non sono gli unici a mancare e la paura del terrorismo non è il solo motivo del calo di presenze. L'afflusso russo si è praticamente stoppato e sì, la situazione politica russa e anche all'embargo hanno creato un po' da tappo per cui alla fine quello che era una nostra fonte importante di incoming si è molto rallentata. I giapponesi? I giapponesi invece per una ragione diversa, loro temono appunto gli attentati, c'è questa fobia dell'attentato e quindi hanno preferito altre mete perché venire in una meta a rischio, preferiscono restare nelle zone più attigue ai loro paesi.